A Cirano di Gandino da pochi giorni sono iniziati i lavori per attrezzare una nuova area allo sport, l'attività all'aperto. Che cosa verrà realizzato? Esatto, siamo qui nella zona sotto San Gottardo e alla mia sinistra verrà realizzata un'area attrezzata con uno skate park e un calisthenics. L'importo dei lavori previsto è di circa 50.000 euro, tutti i fondi recuperati dal comune e la fine dei lavori è prevista per l'inizio dell'estate. Sono previsti poi dei lavori anche nell'area adiacente? Esatto, dietro come c'era già in precedenza ci saranno un campetto da calcio e un campo da pallavolo. Quando prevedete che finiscano i lavori? I lavori prevediamo di finirli prima dell'estate, così da avere tutta l'estate per poterli utilizzare. L'idea di attrezzare quest'area è venuta da alcuni giovani del paese. Com'è stato il percorso per arrivare poi ai lavori che vediamo finalmente iniziati? Esatto, allora l'idea è partita tre anni fa da questo gruppo di ragazzi, più un altro che purtroppo oggi non è potuto essere presente. L'idea era quella di fare un'area attrezzata e gratuita per i giovani e non solo, dando l'opportunità di potersi allenare gratuitamente. Questa idea poi è passata alla Proloco che pur avendo accettato l'idea non è potuta proseguire con i lavori e questi lavori sono stati effettuati dal comune dove abbiamo proposto quest'idea l'anno seguente. Spieghiamo che cos'è il calisthenics, magari non tutti conoscono questa disciplina che si sta diffondendo molto tra i giovani. Sì, il calisthenics è una disciplina corpo libero che viene praticata con l'ausilio anche di attrezzature come sbarre e si possono eseguire esercizi come trazioni, piegamenti sulle braccia o DIP e la finalità è avere un corpo in forma e divertirsi, sfogarsi e fare nuove amicizie ovviamente. C'è stata collaborazione da parte vostra con l'amministrazione comunale, avete anche consigliato le attrezzature da mettere. Frequentate già altre aree di calisthenics in Val Seriana? Assolutamente sì, da quando il progetto è partito ci siamo consultati con il comune che è subito stato ben disposto ad aiutarci. Abbiamo già frequentato diverse aree attrezzate, soprattutto a Gazzaniga dove si è creato un gruppo molto affiatato di giovani appassionati. Spieghiamo anche che cos'è uno skate park. Principalmente è un'area riservata a monopattini, skateboard o BMX, compresa di rampe con la quale si possono fare diverse evoluzioni e anche salti. Mancava in zona un'area di questo tipo, eravate costretti a spostarvi anche abbastanza lontano? Sì, perché fino ad ora eravamo sempre abituati a spostarci, per esempio magari andavamo a Fino del Monte o anche ad Alzano, perché più parchi più vicini non ci sono. Grazie a tutti.